Giorni di duro lavoro per il governo regionale, che dovrà fronteggiare l'annunciata mobilitazione dei dipendenti della Molise Dati, da due mesi senza stipendio. I sindacati sollecitano i vertici a sbloccare i pagamenti delle spettanze arretrate, anche perché i creditori della società in house della regione potrebbero adire le vie legali, aggravando così ulteriormente una situazione economica a dir poco compromessa. Inoltre la governanza della Molise Dati è per la totalità dimissionaria, a cominciare dal suo presidente Mauro Belviso, per continuare con il vice Michele Coromano e concludere con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Dimissioni che hanno avuto decorrenza dallo scorso 10 aprile, ma tutte le ex figure apicali non sembrano preoccuparsi di quanto sta accadendo e hanno precisato che il loro mandato è scaduto con l'approvazione del nuovo bilancio. La notizia delle dimissioni del CdA è trapelata grazie ad una nota delle RSA di UGL e Filcams CGL, unite nel denunciare una situazione definita grave e preoccupante. E in questo braccio di ferro insistono i sindacati a perdere sono i dipendenti, che non possono far fronte alle esigenze proprie e delle rispettive famiglie. Intanto per il 28 aprile il collegio sindacale ha convocato l'Assemblea dei Soci, all'ordine del giorno proprio la sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Anche il prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, è stato informato della vicenda, poiché maestranze e sindacati non escludono azioni di protesta. In questo clima di generale tensione si inserisce anche l'avvertenza che interessa gli 84 lavoratori precari della protezione civile. Questa mattina infatti si è tenuto un nuovo tavolo di confronto tra regione e organizzazioni sindacali, per trovare una soluzione positiva all'avvertenza dal momento che lo scorso 31 marzo sono scaduti i contratti part-time a tempo determinato degli 84 lavoratori.